La consulta delle lette del Piemonte ha pubblicato in rete le registrazioni audio e video dei 5 incontri formativi protagoniste nei governi locali, che si sono svolti da settembre a dicembre 2013 in tutte le province del Piemonte. I video sono visibili sul canale TV del Consiglio regionale e sul sito istituzionale.